Numeri alla mano, i risultati sono incoraggianti. Barletta viaggia intorno al 74% di raccolta differenziata, segnalandosi tra i comuni italiani più virtuosi, infatti di buone pratiche ambientali, indirizzate al ciclo dei rifiuti. Eppure non basta, perché il lavoro da fare rimane tanto se si vuole ambire a risultati di qualità, oltre che di quantità. Sono ancora numerose le persone che continuano ad ignorare le regole del porta a porta entrato in funzione l'anno scorso su tutto il territorio di Barletta, divise da chi rifiuta di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta, scaricando ostinatamente la sua immondizia nelle campagne circostanti, e chi invece, a distanza di tempo, non ha ancora compreso come vanno differenziate correttamente le diverse categorie dei rifiuti. In soccorso di questi ultimi, la Barsa, la società che si occupa di gestire il servizio di raccolta, ha scelto di promuovere una nuova campagna di comunicazione intitolata Passaparola. Stiamo cercando di dare più informazioni possibili e continuare a dare informazioni, perché la comunicazione della Barsa non finisce solamente nei manifesti, ma dobbiamo entrare a parlare con la gente e parlare con la città. Abbiamo cercato di fare questo gazebo, tra virgolette, mobile, il sabato e la domenica, per tutto il mese di marzo, in associazione con la Sorider e con l'Egambiente, per dare informazioni utili alla cittadinanza. I dubbi possono essere tanti e chiedere non costa nulla. Le domande più frequenti riguardano il corretto conferimento dei rifiuti o i vantaggi in termini economici che deriveranno per i cittadini dall'introduzione del porta a porta. Ma c'è ancora, spiegano i volontari del gazebo, che ha molta confusione in testa su come reperire le buste nelle quali conferire i rifiuti. Le buste che si pagano, le buste non si pagheranno mai, la Barsa non farà mai pagare buste o altre informazioni di tipo logistico. Stiamo cercando anche di dare informazioni a gente un po' più anziana per farli capire sempre di più e per aumentare quel 74% di raccolta differenziata che speriamo possa aumentare sempre di più nel tempo. Il prossimo gazebo informativo sarà a disposizione domenica 29 marzo in corso Vittorio Emanuele, dalle ore 10 alle 13. in corso Vittorio Emanuele